Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di oggi. Il nostro incontro ha come obiettivo dire alle scuole, ai genitori, alle associazioni, agli enti pubblici e privati che vogliamo fare scuola. Ci mancano i ragazzi, le discussioni in aula, il rumore dei ragazzi in cortile. Vogliamo fare scuola e questa è la nostra missione e sentiamo di doverla fare in modo nuovo e con ancora più coraggio e passione. Per questo motivo sentiamo l'urgenza di lavorare con tanti di voi. Vogliamo fare reti, vogliamo fare sinergia, vogliamo fare comunione al fine di trovare insieme le strade e dare risposte concrete ai nostri bambini e ragazzi. Sarà la nostra Presidente della FIDA e Virginia Kaladic a raccontarvi quello che ci ha spinti a metterci al lavoro intorno ad un manifesto della scuola che sogniamo. Le passo la parola Presidente, la ringrazio. Grazie Sor Paola di questa introduzione e soprattutto del coordinamento di questo lavoro che stai portando avanti. Saluto anche Ernesto Diaco, direttore dell'UNESU della CEI, che poi avrò modo di introdurre in modo particolare per la sua presenza. Io saluto tutti, benvenuti, a nome di tutto il Consiglio Nazionale della FIDE. Se oggi siamo qui è perché c'è stato un vero lavoro di squadra. Saluto tutti quelli che sono presenti in videocollegamento e quanti ci stanno seguendo in diretta su YouTube. Buonasera a tutti e benvenuti in questa avventura che vogliamo iniziare con voi. Per la scuola, dopo l'emergenza Covid-19, io mi sento di dire con molta serenità che non possiamo utilizzare il verbo ripartire. La scuola non si è mai fermata, ma di continuare, continuare a fare scuola. Che cosa che è cambiato? C'è una novità. Dobbiamo fare scuola in una situazione nuova. Sicuramente è una novità questo procedere che appare con grande chiarezza e delinea anche i tratti. Non possiamo più farlo da soli. Per guardare avanti abbiamo bisogno di saperci ascoltare, dialogare, individuare strade da percorrere in sinergia con i genitori, i docenti, gli studenti, le istituzioni. Con tutti dobbiamo saper dialogare e insieme capire come accompagnare i nostri ragazzi. Ci saranno, dopo questo lancio, approfondimenti e proposte su vari aspetti che stasera saranno ben introdotti da massimi esperti nell'ambito pedagogico, economico, urbanistico, sanitario. Ci fermeremo a riflettere sugli spazi, sui tempi, sui contenuti del nostro fare scuola. E sì, a partire da questa situazione emergenziale che stiamo vivendo, nasce forte un'esigenza. come accompagnare i nostri bambini, i ragazzi, a saper gestire soprattutto le proprie emozioni. Sono stati portati in una situazione di grande serietà. Dobbiamo aiutarli a capire come tollerare meglio le situazioni stressanti e imparare a comunicare anche i loro stati emozionali. Queste sono le attenzioni che saranno in grado di sviluppare relazioni positive con la famiglia, gli amici, i compagni, i docenti, gli adulti di riferimento e ottenere anche maggiori successi nell'apprendimento. Se i nostri ragazzi, i nostri bambini stanno bene, apprendono bene. E questo è il nostro desiderio, farli stare bene. Li aspettiamo, ma per farli stare bene. Oggi, più di ogni altro momento storico, la scuola, in un'ottica anche di prevenzione, ci può sicuramente aiutare nello sviluppo dell'intelligenza emotiva. Al centro di tutto questo c'è solo il benessere delle bambine, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, in una situazione completamente nuova. È una delle attenzioni principali e sicuramente come prenderci tura dei nostri studenti. Siamo tutti coinvolti in questo, genitori, docenti, personale amministrativo, tutti coloro che anche in questa emergenza hanno permesso di continuare la trasmissione del sapere. Siamo andati avanti e tutto questo ha tenuto vivo il futuro del nostro paese. Possiamo dire che la scuola non si è mai fermata. Quella di oggi è una campagna aperta a tutti, nessuno escluso. Come aderire? Lo diremo anche alla fine, ma ognuno pensa alle risorse che possiamo mettere in campo per il raggiungimento di questo grande obiettivo, cioè guardare oltre. Mettere insieme risorse di idee, di competenze, che diventa un grande investimento. da soli non possiamo guardare al futuro e per questo noi abbiamo parlato al plurale. Vogliamo fare scuola. Vogliamo fare scuola con voi, insieme, per la posta in gioco, perché la posta in gioco è grandissima, il futuro delle nuove generazioni. Perché questo ci permetterà di sostenere tutto il sistema pubblico integrato, statale e paritario. Noi oggi stiamo parlando di scuola, stiamo parlando soprattutto di chi abita la scuola, i nostri studenti, i nostri ragazzi. Pertanto tutto il sistema scolastico è attenzionato in questo momento. Oggi per questo lancio con noi ci sono realtà che rappresentano altrettante realtà rappresentative, importante, prima di tutto la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana attraverso il direttore Ernesto Diaco, che ringrazio, i superiori maggiori, Cisma e Lusmi, le tantissime congregazioni religiose che con le loro scuole hanno aderito lanciando e sostenendo questa campagna. I rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, i rappresentanti degli enti locali, poi saluto l'Agesc, il Forum delle Famiglie, il Mondo Salesiano, CIOFS, Scuola, FNOS Scuola, il Movimento Studenti Cattolici FIDE, CDO Opere Educative, FISM, AIMCI e tante associazioni, sicuramente non riesco a citarle tutte. E anzi, con il termine associazioni, fondazioni, istituti bancari, voglio salutare tutti i rappresentanti di queste realtà. Quando poi ci sarà la dimostrazione di interesse, cominceremo a chiamarci per nome. Pertanto grazie di la vostra presenza, perché il vostro essere qui è già il primo sostegno all'inizio di questa grande esperienza. Vogliamo fare scuola, ma con voi, insieme con voi, e c'è posto per tutti in questo cammino. Grazie. Adesso do volentieri la parola a Ernesto Diaco, che come già detto è direttore dell'Ufficio Nazionale Educazione Scuola della FEI. A lui do la parola e lo ringrazio per la sua presenza e per il suo sostegno e per quello che ci vorrà dire. Grazie, buonasera. Grazie, Virginia. Grazie a tutti voi. Grazie per l'invito che ho ricevuto volentieri a porgere un saluto all'inizio di questo lancio, di questo momento così significativo. Ma grazie soprattutto per quello che è stato pensato e fatto in questo tempo, che è veramente tanto, è veramente molto, è veramente pregevole anche per le condizioni in cui si è stati costretti a lavorare, per i pensieri aggiuntivi che ci sono rincorsi in queste settimane, ormai possiamo ripudire questi mesi. Io in questo intervento voglio brevemente sottolineare solo un paio di aspetti di questa campagna, di questo progetto, che vedo come delle risposte a domande che oggi sono molto forti nei confronti della scuola, quindi sono anche un elemento di valore della vostra proposta. Il primo, già un po' mi pare emergeva nelle parole della Presidente Kala, dice, è il noi che è sottinteso nel titolo, nello slogan della vostra proposta. Noi vogliamo fare scuola. Ecco, quel noi che non compare, ma in realtà compare, è ben presente. Quel noi dice innanzitutto, in primo luogo, che la scuola non è una cosa terza, noi ne parliamo la terza persona, ma la scuola siamo noi, forse meglio ancora potremmo dire noi siamo la scuola, tutti noi, studenti, insegnanti, dirigenti, responsabili, le famiglie, ciascuno di noi è la scuola. Noi siamo la scuola, noi siamo scuola non da soli, ma con voi, ecco perché dietro a questo titolo c'è l'idea del patto educativo, dell'alleanza educativa e anche la Chiesa è compresa in questo noi che vogliamo, che vuole fare scuola. Anche vogliamo fare scuola, mi sembra che noi che il soggetto di questo vogliamo fare scuola sia un dire noi ci siamo, potete fare affidamento su di noi e in questo momento in cui la nostra società deve affrontare sfide ancora più grandi e che ancora non conosciamo fino in fondo dove si porteranno, avere una realtà come questa di giovani, adulti, genitori, professionisti che manifestano questa volontà, che non è un desiderio, è un impegno, una responsabilità, credo sia una risorsa preziosa per tutta la società italiana. Quindi con questo messaggio voi date appunto una comunicazione di fiducia, di responsabilità, di incontro, non solo un appello, non solo un'emergenza si vuole sottolineare. E questo dice all'Italia di oggi che la scuola è prima di tutto delle persone. Questo noi vogliamo fare scuola dice all'Italia che la scuola è la comunità, è la società civile che fa la scuola prima di tutto ed essenzialmente è un diritto, è una responsabilità delle famiglie e non da sole, di tutti coloro che si mettono insieme per questo, che ne hanno i mezzi, ne hanno le competenze, ne hanno la passione ed è quindi un diritto, una responsabilità che va sostenuta. Noi vogliamo fare scuola parla di un valore sociale, un valore civile, di un valore pubblico, di un elemento che è sorgente di crescita per il nostro Paese e sappiamo di quanto ce ne sia bisogno. La seconda sottolineatura che vorrei fare riguarda una cosa che spesso è stata detta e mi pare a questo tempo e cioè che questa situazione inedita ha rimesso in luce o sta cercando di rimettere in luce quello che è l'essenziale, l'essenziale della nostra vita, l'essenziale delle nostre relazioni, direi l'essenziale anche della scuola perché nelle condizioni estreme si vede veramente ciò che conta o ciò che noi vogliamo rimanga non vada per tutto. E l'essenziale della scuola è emerso, sta emergendo che non è il programma da finire a tutti i costi e non sono neppure le aule, le classi sì magari, ma le classi nel senso del gruppo, nel senso della persona. Tutto il resto è relativo alle persone, alla loro crescita, al percorso che insieme si vuole compiere. L'essenziale quindi nella scuola sono le relazioni tra le persone, le relazioni educative a cui vanno orientati i mezzi anche tecnologici che devono rafforzare, devono sostenere, devono favorire, non sostituire la relazione educativa e devono anche fare un passo indietro quando non è loro comune. L'essenziale è un alunno aiutato sempre di più ad essere al centro del suo percorso formativo, un alunno aiutato ad essere sempre più autonomo, protagonista, protagonista anche critico e non passivo. Sappiamo quanto a volte invece il rapporto con i mezzi, l'esposizione, meglio i mezzi di comunicazione moderni, rischi di rendere passivo. Ancora essenziale della scuola come un insegnante che non è sostituito da internet ma casomai è liberato dalle tecnologie, è liberato dall'essere l'enciclopedia o il manuale a cui ricorrere per essere realmente una guida, un orientamento, un costruttore di comunità. L'insegnante è un costruttore di comunità, l'insegnante è un promotore di vocazioni, è un promotore di esperienza, è un potenziatore di talenti. Questa situazione credo che metta in luce questo, che chieda agli insegnanti di essere sempre di più soprattutto questo. Una scuola quindi la cui essenzialità consiste anche nell'essere flessibile, nell'essere sempre più autonoma, valorizzata in quanto luogo educativo, composto, diciamo prima, da persone che hanno una responsabilità, un diritto, un dovere di mettersi insieme per la crescita dei nostri ragazzi. Questo è un po' il messaggio che io leggo nelle vostre parole e per il quale vi faccio veramente il mio miglioramento. Grazie. Grazie Ernesto per questa tua presenza, per la presenza della SCEI che rassicura sempre il nostro cammino e il nostro andare avanti. Sappiamo che ci sostenete, che ci siete, che ci siamo e andiamo avanti in questa linea. Grazie ancora e adesso do volentieri la parola di nuovo a Suor Paola per coordinare e moderare gli interventi che ci susseguiranno e poi alla fine ci ritroveremo. Buona serata a tutti. Qualcuno chiedeva se erano previste domande, non sono previste risposte ma le domande è possibile scriverle, noi le tireremo giù tutte e poi volentieri nella restituzione anche della partecipazione a questa conferenza stampa cercheremo di dare delle risposte. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Ringraziamo la Presidente innanzitutto per aver chiarito l'obiettivo del nostro progetto ed Ernesto Diaco per aver confermato che la SCEI è con noi e sostiene il nostro impegno e il nostro lavoro. Grazie. Abbiamo con noi stasera come amici e sostenitori del manifesto alcune voci autorevoli in ambito economico, sanitario, accademico ed ecclesiale e ci siamo preparati insieme in questa settimana a questo appuntamento. Sono voci diverse per provenienza e competenza che ci aiutano a capire come la scuola oggi abbia bisogno di essere guardata da angolature diverse. Li presentiamo. I nostri amici chiedo di essere attivi con la loro telecamera, così li vediamo. Benissimo, arrivano tra noi. Grazie. Perfetto, ci siamo tutti. Abbiamo sore Alessandra Sverilli, figlia di Maria Ausiliatrice, economista, docente di economia all'Ausilium di Roma, consigliera per l'economia presso il Consiglio di Stato Vaticano. Abbiamo il professor Francesco Vaglia, direttore dello Spallanzane di Roma, uno dei massimi esperti di epidemiologia, medico, docente e studioso. Abbiamo Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della scuola di economia civile. Elena collabora con la rivista Città Nuova. Infine, Don Sergio Massironi, rettore del collegio archivescovile Villoresi, San Giuseppe di Monza, ha collaborato al servizio per la pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Milano, scrive per l'osservatore romano e suo avvenire. E coloro ci aiuteranno oggi a dire concretamente in che cosa consiste il nostro progetto e che volto vorrà avere. Do subito la parola a Sor Alessandra, alla quale pongo questo quesito. Sor Alessandra, scuola, economia e reti, come sta cambiando il mondo e come possiamo immaginare un ruolo nuovo per la scuola, coerente con il tempo che viviamo? A te la parola. Grazie. È una domanda difficile a cui non so propriamente dare risposta, come penso nessuno di noi in questo momento in cui ci troviamo a dover cercare di intravedere l'orizzonte, ma sappiamo che abbiamo tanti elementi di incertezza e quindi passo dopo passo capiamo sempre di più ciò a cui ci stiamo preparando. A me piace il titolo di questo incontro, vogliamo fare scuola e credo che per noi, qui mi sento un po' espressione del mondo religioso, vuol dire anche vogliamo innovare, perché noi sappiamo che le prime scuole, la prima assistenza sanitaria, i primi ospedali sono nati da carismi, da chi in momenti particolari, vedendo bisogni particolari, ha saputo dare risposte nuove, inventare qualcosa che non esisteva. Noi oggi ci troviamo in un momento decisamente nuovo, non aspettato, nessuno si aspettava che prendesse queste proporzioni, è un'emergenza sanitaria che si sta decisamente tramutando in una possibile grande crisi economica a livello mondiale. A livello mondiale ma anche europeo, l'Europa soffre molto perché è una delle zone più colpite dalla pandemia e perché l'Europa era già in sofferenza rispetto ad altri continenti, ad altre zone del mondo, anche per disoccupazione per esempio. E quello che sta accadendo adesso è che si stima che sono a rischio almeno in Europa 60 milioni di posti di lavoro. Anche in Italia sono in aumento le persone in povertà assoluta. Sull'Italia possiamo dire che la Caritas nel solo periodo del lockdown ha visto aumentare le richieste anche solo per i pasti del 114 per cento, solo nell'ultimo mese. Questo vuol dire che la situazione è complicata. Però voglio arrivare alla scuola. Chi è più a rischio in questo momento in Europa di perdere i lavori da analisi fatte da società come la McKinsey per esempio, nei settori più esposti sono a rischio il 41 per cento dei giovani. Cioè sul 100 posti di lavoro 41 li perderanno i giovani, la fascia fino ai 24 anni e i giovani con meno competenze, con meno titoli di studio. E allora questo è un momento in cui la scuola diventa fondamentale. Il salto che questa pandemia ci ha fatto fare con le nuove tecnologie nel ripensarci e io fin dall'inizio, nelle esperienze che ho visto ma anche nella riflessione che voi avete fatto, ho visto questo grande desiderio di esserci. Non di tornare a come eravamo prima ma di poter far scuola in modo nuovo per quello che serve oggi e cogliere questa occasione per dire come possiamo cambiare. Tutto questo mi fa dire che ci sono le carte, la passione per poter pensare a qualcosa di nuovo che sia nella linea dello sviluppo delle competenze ma come diceva Ernesto Diaco prima che sia lo sviluppo di quella rete, di quella comunità di cui abbiamo bisogno e abbiamo capito che in questo momento non ne possiamo fare a meno. E allora quello che è importante come messaggio da rivolgere anche a chi governa, a chi deve prendere scelte politiche eccetera è che verso dove andremo noi abbiamo avuto un tempo di misure cosiddette di rescue packages, cioè di misure dell'emergenza, da quelle bisogna passare ai cosiddetti recovery packages. Io direi devono essere i ricoveri cioè per la ripresa per tornare come prima o rigeneranti per tentare di andare verso un mondo diverso e se vogliamo andare verso un mondo diverso c'è bisogno di valutare le misure politiche in base alle conseguenze che avranno. Per esempio oggi molte lobby a livello internazionale stanno bloccando quello che in Europa è il Green New Deal cioè gli investimenti per il climate change dicendo in qualche modo imponendo e dicendo se volete che noi salviamo posti di lavoro dovete rilassare queste misure perché altrimenti non vi garantiamo che teniamo i posti di lavoro. E invece noi pensiamo che il futuro si gioca proprio sui giovani, sull'ambiente e quindi su una sanità, ma non è questo il mio campo, lascio subito dopo la parola al dottor Vaglia, che sia fatta in un certo modo. E allora le misure per la ripresa devono essere valutate negli effetti economici moltiplicativi che hanno perché se non hanno questi effetti non sono misure per la ripresa, ma possono essere valutate anche per gli effetti sul clima, quello che produce per le future generazioni, per l'innovazione nel lavoro. E allora tutto questo per dire che sono state fatte ricerche e è possibile avere misure e tra queste l'investimento in quello che viene detto il reskilling, cioè nel rimettere in gioco le competenze e nel formare le nuove competenze, quindi investimenti in educazione, cioè gli investimenti in educazione rientrano tra le misure che ci permetteranno di fare una transizione che aiuta la ripresa economica e nello stesso tempo va nella direzione del mondo che noi vogliamo. E allora la chiarezza che i decisori devono avere è capire quali sono le priorità in questo momento e l'educazione è tra queste priorità. E quindi l'augurio è che si prenda in seria considerazione il noi vogliamo fare scuola e vogliamo farlo in modo innovativo. E grazie. Grazie, grazie Sra. Alessandra per il tuo prezioso contributo. Grazie per la tua salesianità che parla e traspare dalle tue parole per andare appunto incontro al mondo d'oggi. Ma soprattutto grazie per invitarci a fare scuola e scuola di qualità perché i nostri ragazzi siano pronti ad affrontare il mondo contemporaneo e la sfida che si presenta. Do adesso la parola al professor Vaia che in queste settimane lei ha vissuto in prima linea l'emergenza sanitaria professore con grande equilibrio e senso di responsabilità. L'apertura delle scuole tanto attesa suscita in noi ansie e tante preoccupazioni. Come possiamo tenere insieme salute e diritto di tutti i nostri bambini e ragazzi a tornare in aula? Ha ne la parola professore. Il microfono, deve attivare il microfono. Perfetto. Era l'organizzatore che non mi dava la parola. Grazie. Bene, grazie. Grazie a voi per l'invito. Saluto tutti, in particolare ovviamente su Alessandra che conosco personalmente e Don Sergio suoltre il formigamento. Bene, è una domanda bella, complessa, per la quale mi piacerebbe parlare più tempo, ma insomma tanto tempo non ne abbiamo nessuno. Il tema salute e scuola è un tema che è sempre esistito, sempre. E in questo momento è un tema più in evidenza, ma è un tema che forse andrebbe sviluppato anche dopo questa emergenza, dopo questa epidemia. Nell'ambito di, come dire, di un ragionamento comprensivo, io sono stato sempre abbastanza ottimista dall'inizio, aiutato un po' anche dai numeri che abbiamo via via osservato dal mio osservatorio, no? Dallo Spallazzani, da Roma, dal Lazio. Sono sempre stato un cauto ottimista, ho sempre detto che eravamo un po' in controtendenza rispetto ad altre aree giocate, soprattutto quelle del nord, per tanti motivi. Adesso non è caso di dire per quali e tanti motivi eravamo in controtendenza. Ma questo cauto ottimismo che mi sono portato dietro, confortato dai numeri, mi ha fatto dire più volte che la società deve aprirsi tutta, con gradualità, tenendo presente che non bisogna mai abbandonare le regole che ci siamo dati, che abbiamo imparato in questo periodo, che sono utili, utilissime, e che saranno utilissime anche dopo molte di essere. E io ho detto più di una volta anche che noi, il mio giudizio, non siamo nella seconda fase e non è corretto dire che siamo nella seconda fase o che entreremo nella seconda fase. È più corretto dire che da una fase 1, per arrivare alla fase 2, dovremo attraversare un periodo di transizione, di svezzamento, di geserto. Abbiamo utilizzato varie metafore che ci dicono che questo è il periodo più dedicato. È il periodo nel quale guai ad abbassare la guardia anche se io ho visto abbassare ancora troppe guardie. Adesso di Roma, di Milano, la visione romocentrica, di Milano. Purtroppo ancora Milano. È una scena che io non avrei voluto vedere, perché nonostante i nostri tantissimi appelli, insomma, se voi leggete i social è una cosa ferribile. Bene. E questo distrugge la speranza e la possibilità di arrivare effettivamente nella fase 2. Distrugge il lavoro di tanti di noi che stanno dicendo e che dicono in queste ore attenzione non abbiate paura, ma aprite le porte all'aria aperta, aprite le finestre, lavatevi le mani, utilizzate i precisi di sicurezza, state attenti e accompagnati con queste regole, a mio giudizio e a giudizio di molti miei colleghi, si può fare tutto. Tutto e anche bene. E quindi in questo contesto, quando mi è stato chiesto già più di un tempo fa, di qualche tempo fa, cosa pensa lei che possa, come possiamo disegnare, intravedere questa seconda fase, che è l'inizio dell'uscita dal tunnel, e io ho detto che c'erano, che i vari segmenti della società civile, bisognava aprire il tempo libero, il tempo libero, il l'accesso al culto, sono sempre stato favorevole a certe condizioni, fortunatamente questo poi si è anche concretizzato ieri, a certe serene condizioni, rimbalisco serene condizioni, anche lo sport. Ho detto che i due settori che mi preoccupavano di più, lo dico con franchezza, erano e sono i trasporti e la scuola. Ma non tanto, qui voglio essere molto chiaro, forse in questo vostro segmento sarei molto meno preoccupato, ma io sono molto preoccupato della scuola pubblica e dei trasporti pubblici. Io credo, e l'abbiamo dimostrato anche in questo periodo, che tra i servizi pubblici la sanità, non dico la migliore, forse la meno peggio, è quella che dà migliori risposte comunque alle attesi dei cittadini. Sono molto preoccupato dei trasporti e sono molto preoccupato della scuola pubblica. Se noi abbiamo aule di 30-35 bambini, come possiamo immaginare di tenere in sicurezza questi bambini? Se noi abbiamo scuole che già oggi, nel mezzogiorno di dare soprattutto, utilizzano il secondo e il terzo turno, come possiamo immaginare che questi bambini, giovani, adulti, possano essere in sicurezza? Questa è la parte, diciamo, la quale non dovrei entrare nella parte più politica, sociale. Ma si può fare a condizioni. E quali possono essere le condizioni? Io direi che il tema scuola e salute, ma è scuola, salute, società, politica, economia. Ci vogliono investimenti massicci da parte dello Stato, soprattutto in questo momento, per consentire misure di sicurezza, che non possono essere solamente la mascherina, il lavaggio delle mani, aprire le finestre. Allora io immagino, possiamo tenere aule con 30 bambini? No. Allora bisogna fare tre aule per 10, 10, 10. Perché bisogna tenere anche presente il tema che non è, io, insomma, non è il mio lavoro. Immagino, perché ho sentito tante critiche, come si fa a dire 15 a casa e 15 in aula? Non lo so, non è il mio lavoro, ma io avrei difficoltà, immagino, come fai a non venire incontro alle esigenze delle famiglie, delle tante famiglie che preferiscono, preferirebbero il tempo pieno. E allora se tu metti tutti al tempo pieno devi avere delle aule più capaci, più capienti. Devi avere scuole che hanno ampi cortili. Devi avere delle scuole che abbiano la capacità di rivedere, un tema grandissimo questo, di rivedere gli impianti di condizionamento. Io qui, da Roma in giù, qualcuno potrebbe sorridere, perché diceva, avvenceri i riscaldamenti, no? Perché sarebbe anche questo il tema, avvenceri i riscaldamenti. Ma lì dove ci sono, in questo momento, io da tecnico dico che gli impianti di condizionamento, caldo o freddo, vanno assolutamente spetti, perché possono essere pericolosi. Allora voi immaginate quelle scuole, voi direte che ci esistono, che ci hanno vetri rotti, cioè quindi ci aiutano, queste scuole qui ci aiutano, ci hanno i vetri rotti e quindi hanno a reazione costante. Ma lì dove siamo costretti, perché sono anche buone le finestre, ad aprirle, perché bisogna aprirle, in carenza di un percorso di bonifica, di percorso di bonifica serio. Questi bambini non li faremo morire di Covid, ma li faremo morire di legionella, per esempio, o di altre malattie. Allora, come vedete, il tema non è tanto dare quelle poche, che però alla fine sono poche, ma essenziali misure, perché insomma i bambini ci vuole poco a insegnargli, fate per 40 secondi, utilizzate acqua e sapone, poi se non c'è mettete gel, non mettete... tutti i bambini lo sanno fare, si divertono pure a salutare col Covid, con i piedi, stanno distruggendo, si divertono, io ho visto, ma sono poche, non abbraccerebbero mai le mamme, forse più le mamme che hanno voglia di abbracciare, lo fanno. Sono piccole regole che sicuramente già sanno e che continueranno ad applicare nel corso del tempo. Non è quello il problema. Il problema è come la nostra società si adegua a questa sfida che Covid-19 ci ha lanciato e che tutta la società deve essere in grado di affrontare, entrando per esempio, così prima, nell'economia. Io vorrei sapere se riusciamo a prendere i soldi dall'Europa, eccetera, eccetera, poi come li spendiamo? Quali saranno le azioni prioritarie? Io ritengo questo. Ritengo, quindi, se per me, quando volevo dire le problematiche sono scuola e trasporti, volevo dire esattamente questo, che probabilmente lo Stato deve farsi carico di ingenti trasferimenti di risorse esattamente in questi due segmenti che mi preoccupano di più. Che mi preoccupano di più non solamente per questa focolaio epidemica, ma in genere per tutte le malattie infettive che noi potremmo avere. Allora, a mio giudizio, i nostri colleghi che sono anche dei CTS, eccetera, che tra l'altro carenti di donne, continuiamo a dirlo, carenti di donne, carenti di donne, fin quando questa cosa non si attuerà al di là delle chiacchiere, dei dipendi, ci vorrà qualche donna. Lo dice Alessandro, mi ha detto questa bellissima, ormai lo ripeto sempre, è stata bellissima la sua espressione, uno sguardo innovativo, io gliel'ho rubato e lo dico sempre, lo sguardo innovativo delle donne di oggi, a dirà che manca la donna, che poi questa fa, e la donna, come c'è lei, si prende cura di tutto ormai, della famiglia, soprattutto nel mondo mio, del 70%. Ma com'è pensabile destromettere chi occupa il 70% delle cure dai centri decisionali? E sono diventati ancora di più, la sto facendo lunga, scusatemi, forse la sto facendo lunga, ma sono diventati centri decisionali anche in una maniera impropria. Ma dove si è visto mai che il CDS deve decidere? Perché è una classe politica, un po' così, non voglio utilizzare altri aggettivi, si nasconde dietro di noi e ci chiede, no? Io, sai Alessandro, dico questa cosa privata e in pubblico, dico questa cosa privata e in pubblico, ho molto analizzato e perché ho fatto un video per conto della regione in questi giorni, ha sfiorati 3 milioni di contatti, tanti, all'inizio mi sono spaventato, io dico che è successo, poi ci ho pensato e l'analisi è semplicissima, la gente non ne può più della politica, la gente si affida a noi. Allora se ha un senso, anche questo webinar, ha un senso se noi saremmo ingrati in questi, come in tanti altri, fa crescere in una maniera orizzontale, che si infiltra in tutti, un'esigenza di porre concretamente i problemi. Allora, la scuola è un problema, cerchiamo di risolvere, è inutile dire apriamo a settembre, in queste condizioni, dobbiamo aprire a settembre a condizioni che si faccia A, B, C, D, eccetera, eccetera. Nel mio picco sono disposto a dare il mio contributo. Vi ringrazio. Grazie, grazie infinite, grazie, mi ha portato per dire grazie a tutto il grande lavoro che lei ha fatto in prima linea allo scannaggio in questo periodo di vera difficoltà per l'Italia e per Roma in questo caso. La sua parola è stata non illuminante di più, perché qui abbiamo sicuramente ad ascoltarci tanti docenti, abbiamo tantissimi genitori ai quali noi dobbiamo dare la garanzia che i figli staranno in sicurezza. La ringraziamo in anticipo perché sappiamo che lei sarà con noi nel nostro progetto per cercare le soluzioni e di questo ne siamo veramente grati. Volevo dire se posso dire una cosa, mi sentite, sono orgoglioso di dire questa cosa. Io sono sempre stato contrario alla personalizzazione, come ha detto il Papa recentemente, però sono contrario a che premino l'uno o l'altro, meno l'altro, ciascuno dei miei colleghi che sono stati bravissimi. Però voglio dire con orgoglio che il primo giugno verrà qui il Presidente della Repubblica insieme a un altro nostro amico, che è il tenore Grollo, Francesco, che canterà per noi qui allo Spallanzani. Come dire, Francesco canterà e il Presidente della Repubblica sarà presente per, come dire, testimoniare a tutta la nazione che abbiamo fatto un buon lavoro. È una bellissima cosa. Sono orgoglioso di questo. Bellissimo, complimenti e noi saremo con voi. Grazie. Grazie. Grazie ancora, professore. Diamo la parola adesso. Ci saluta. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Salutiamo anche Sara Alessandra, che non vedo più. Probabilmente anche lì aveva altri impegni. Ciao, Sara Alessandra. Grazie. Grazie ancora. Rimani con noi? Bene. No. Elena, è il tuo turno. Sì, rimango, ma senza telecamera, così vi lascio lo spazio. Grazie. Va bene. Elena Granata l'abbiamo presentata prima. Allora, ti pongo una domanda un po' difficile, ma so che tu sei brava e saprei rispondere. Ci sono momenti, Elena, in cui si sente con tanta lucidità che è necessario cambiare. E' necessario fare un salto di scala. Tornare a scuola non vuol dire necessariamente, l'abbiamo appena visto, tornare a fare scuola nel modo in cui eravamo abituati prima. E questo non solo per ragioni di sicurezza, come ha appena detto il professor Vai, e quindi il distanziamento fisico e sociale. Ma ecco, tu ci dirai in che modo questa novità va cercata. Perché questi mesi effettivamente ci hanno cambiati, non siamo più quelli di prima. Perciò Elena, come guardare avanti quali spazi e quali tempi per la scuola del futuro? Aiutaci a leggere questa realtà. Grazie. Grazie. Buon pomeriggio. Anche a chi non vedo, ma so che siete in tanti, tutti avanti della scuola e affezionati a questo mondo della scuola. Se partiamo da quello che è, che è stato anche rappresentato dal nostro collega ospite, potremmo essere tentati di una grande rassegnazione e disillusione. Non ce la possiamo fare. Lo Stato dell'arte ci dice che la scuola da tanti anni è stata sottovalutata, sottostimata, si sono stati fatti pochi investimenti e quindi verrebbe la tentazione di aspettare indicazioni dal Ministero, indicazioni dai medici sulle pragmatiche, di affidarci ai tecnici, di affidarci a chi ci dà la certezza di soluzioni tecniche, il dispenser, le mascherine, le distanze di sicurezza, la metrica, come se fossimo in un supermercato. E sì, un po' di questa saggezza delle scienze dovremmo portarcela con noi per poter riprendere la scuola in sicurezza, ed è quello che garantiremo ovviamente alle famiglie e ovviamente ai ragazzi, oltre che ai colleghi. Ma noi non siamo un supermercato, non siamo un supermercato e non potranno bastare le distanze di sicurezza, la metrica, le mascherine, tutte cose a cui ci sottoporremo con grande dedizione e con l'eroismo che sapranno avere i nostri ragazzi, ma noi non siamo un supermercato. C'è una domanda di senso che viene prima delle soluzioni pratiche, delle soluzioni tecniche, e lì non ci può aiutare il tecnico. Lì la parola torna a chi ama la scuola e chi la scuola la fa da dentro. Ed è la domanda di senso che viene da quelle aule che sono rimaste vuote in questi mesi. Quelle aule vuote che non ci hanno tormentato quanto le piazze vuote. Guardate quanta retorica in questo paese sulle piazze vuote. Non c'è stato un servizio sulle aule vuote dove i nostri ragazzi non hanno potuto entrare per settimane. Eppure la scuola insieme alla sanità è il primo presidio del welfare di questa nazione. È a scuola che noi creiamo le condizioni dell'uguaglianza, della cittadinanza, dove il bambino straniero appena arrivato è messo nell'aula insieme al ragazzino autoctono, magari di famiglia ricca, dove è stata inserita con una legge lungimirante di tanti decenni fa il disabile insieme al superabile. Questa è stata la grandezza della scuola italiana. E allora noi non siamo un supermercato e non potrà bastarci la metrica, non ci potranno bastare le distanze di sicurezza. Stavolta, e lo dico ai colleghi, saremo noi docenti che dovremo bastare l'esame. Dovremo saper dimostrare che a questo mondo ci teniamo davvero e che non dovrà darci la risposta alla politica, ma la risposta è in capo a chi la scuola la fa. Per questo abbiamo scelto questo slogan, vogliamo fare scuola. C'è quel noi, ma c'è anche un fortissimo istinto di volizione, perché tutto deve partire anche dal fatto che sapremo rialzare la testa. Forse l'abbiamo tenuta chinata per troppi anni come categoria, certo sottopagati, certo precari, certo marginalizzati, però noi abbiamo in mano il futuro di questo paese, che sono i bambini della materna, dalla materna fino alle superiori. E allora prendiamoci il tempo di fermarci, di fermarci a pensare, non che cosa vogliamo fare a settembre. E certo, quello lo capiremo insieme, quanti bambini entreranno, come faremo a trovare le soluzioni pratiche, ma che cosa vogliamo fare nei prossimi dieci anni. Dobbiamo avere la visione, dobbiamo sentire che in questo momento rimettiamo come nel dopoguerra, come negli anni della ricostruzione, le basi per il paese che vogliamo essere. E allora dovremmo lavorare sulla forma e sul contenuto, sui luoghi e sui tempi. Luoghi e tempi. E qui mi viene un rammarico quanto sento le proposte così aride di immaginare lo scaglionamento, le suddivisioni, l'alternanza, come se fosse soltanto un problema sanitario, che non può partire invece dalla biologia, da come sono fatti i ragazzi, da quello che la pedagogia in questi anni ci ha insegnato, gli adolescenti si svegliano tardi, carburano tardi, hanno un metabolismo che richiede un'attenzione diversa che i ragazzi più grandi o i bambini. Allora noi non possiamo pensare che siano solo delle soluzioni tecniche, necessarie, fondamentali, ma dobbiamo ritrovarne il senso. E allora in questo periodo di quarantena, doloroso, perché per chi ama il proprio lavoro, come il mio caso, non avere l'aula affollata di studenti è una sofferenza. Non è vero che è la stessa cosa, fare lezioni online a distanza o fare lezioni con i ragazzi, che vedi il giorno che uno ha malumore, vedi quell'altro, la giornata che gli è andata storta. E allora ci siamo resi conto, ma lo sapevamo anche prima che c'è qualcosa che viene prima dello svolgimento del programma, del registro, dei voti, del compito in classe. E' quel di più, è quel di più della relazione educativa. E questo mi si è consentito, nella scuola paritaria è stato particolarmente coltivato negli anni, perché avete dietro dei carismi che vi hanno suggerito che la scuola non è solo il voto, la scuola non è soltanto il risultato, la scuola è una dimensione di relazione fondante all'essere umano, si entra a scuola bambini e si esce cittadini di uno stato, cittadini con la schiena dritta se si è fatta un'esperienza educativa. E allora quali sono gli ingredienti di questa relazione educativa? Che è sempre asimmetrica, perché c'è un adulto e c'è un ragazzo, e quindi è asimmetrica, ma è una simmetria che però è temperata dal modo in cui noi facciamo insegnamento e che si nutre del tono, come diciamo le cose, delle parole, quali parole scegliamo per insegnare, della presenza, la presenza nell'aula, la presenza è il corpo dell'insegnante, il corpo è la fisica, è la prossemica, l'insegnante non è quello che sa, è quello che riesce a trasmettere ai propri studenti. Quanti insegnanti abbiamo visto pieni di nozioni che non sono riusciti a passare un'alfa, un'alfa, un'omega di quello che sapevano. Perché? Perché c'è un mistero in questa relazione educativa che non è solo quello che sai ma è quello che riesci a trasmettere dentro un'aula che è il contenitore storico di questa relazione. e noi sappiamo, noi che siamo innamorati dell'insegnamento, che l'insegnante è il suo corpo, il suo corpo che si espone al giudizio, alla valutazione, alle volte allo scherno dello studente, è il tono della voce, quel tono della voce che cambia, che si alza, che si abbassa, perché l'insegnante in perenne lotta è un agone con il rischio della noia dei nostri ragazzi, la noia, il disinteresse in quell'età in cui non sentono il senso di quello che stanno facendo. E quindi l'insegnante continuamente se li riacchiappa, se li riconquista a quel senso che magari talvolta anche lui non riesce a trovare in quello che fa. E quindi è una lotta contro il già detto, il ripetuto, il già visto, perché lo studente è perennemente annoiato. e quindi noi veniamo da questo mondo in cui l'aula, dimensione spaziale, è il luogo dove si mette in scena l'insegnamento. L'insegnante entra, una bellissima immagine di Maria Zambrano, filosofa, l'insegnante arriva nudo, si mette in cattedra e c'è un momento in cui tira il fiato e fa i conti con la sua povertà. E poi? E poi entra in scena. E se è un vero insegnante, perde quella sua nudità e si consegna alla classe. E un'ora, un'ora sola di lezione può cambiare la vita di un ragazzo e lo sappiamo perché è per quell'ora che noi abbiamo studiato e per quell'ora che noi viviamo. Ciascun insegnante vive per quell'ora, per quei cinque minuti che fanno la differenza nella vita di un ragazzo. Che ne è dell'insegnamento quando non c'è l'aula? Quando siamo deprivati della nostra materia prima, che sono i nostri ragazzi, che sono le nostre aule, come è accaduto in questi mesi? Succedono cose interessanti. Succedono cose interessanti anche quando siamo privati dell'aula. Perché? Perché non tutti hanno i talenti teatrali, non tutti sono così appassionati nell'insegnamento e quindi magari tanti insegnanti hanno scoperto dei loro talenti proprio nel nascondimento, dietro una telecamera, in una relazione più protetta con la classe, meno esposta. Che bello! Al contempo ci siamo resi conto che anche i nostri studenti in una dimensione mediata, non così esposta come quella dell'aula, un po' più protetta, sono venuti fuori con i loro talenti. Il timido, che magari osa fare la domanda, la battuta, la classe che si riconfigura in una maniera diversa, mediata, dal digitale, ma non meno sincera. E quindi anche questo arricchimento di questi mesi potremmo portarcelo con noi. Il primo apprendimento, quello che abbiamo capito, è che l'apprendimento è un'esperienza, è un'esperienza, cioè è qualcosa che ti cambia la vita, che ti cambia la giornata, non è un download. L'apprendimento non è scaricare un file con la lezione del professore. L'apprendimento è passare attraverso una forma di relazione, magari immediata, la lezione fatta online, in presenza o a distanza. E naturalmente la restituzione di questo apprendimento non può essere un play, un replay. E questo ha molto da dirci, perché noi spesso eroghiamo una lezione e chiediamo in cambio che ci venga restituita esattamente come in un play, schiacciando un testo. Ecco no, in queste settimane i ragazzi che non hanno abitato le nostre aule in fondo si sono liberati anche di quegli orpelli che sono la classe, la restrizione, i banchi, la prossimità coatta, la simmetria per cui si guarda tutti il professore non si può chiacchierare, non si può copiare, non, non, non. Ecco, i ragazzi hanno tirato fuori dei talenti, il loro saper fare, le loro curiosità, il loro tempo liberato dalla scuola. Beh, beh, dopo tutto questo abbiamo ancora nostalgia di tornare in aula come se non fosse successo niente oppure dovremmo portarci con noi quello che è successo. E che cos'è successo? è successo che capiamo benissimo che quel tipo di aula tradizionale con i banchi eterodiretta in cui tutti si guarda dalla stessa parte e non ci si guarda, non si hanno relazioni, beh, forse non è più l'aula in senso metaforico ovviamente, ma anche fisico non è più l'aula che può ospitare quelle teste e quei cuori dei nostri studenti che per un anno hanno sofferto l'assenza. E se siamo rispettosi verso quello che hanno patito in queste settimane io ho tre figli adolescenti e li ho visti non pronunciare un lamento in nessuna ora di queste settimane per dire ma non è giusto. Sono una generazione che sta sopportando con una capacità incredibile di resilienza, di resistenza ma anche la capacità di ricostruirsi. Ecco, noi è questo tipo di ragazzo che dovremo accogliere a settembre ed è per loro che noi ci siamo svegliati. Ci siamo svegliati e quindi è il tempo in cui finalmente finalmente lo dico dovremo fare i conti con l'inadeguatezza dei nostri spazi, delle nostre aule, del nostro modo di fare didattica, del nostro metodo. Che cosa rischiamo di perderci? Rischiamo di perderci per strada l'intelligenza emotiva, quella che Sor Paola richiamava all'inizio e anche Virginia, l'intelligenza emotiva che non è soltanto la consapevolezza cognitiva del sapere, l'intelligenza emotiva è quella che mette insieme la testa e il cuore, l'intelligenza creativa che è quella che le ha fatti sopravvivere in queste settimane, il saper fare, il saper trovare la soluzione al problema inedito, l'intelligenza relazionale, il sapere delle relazioni, fare amicizia, riuscire a capire che è un tema importante e il sapere delle mani, il sapere manuale. Quanti ragazzi in queste settimane hanno imparato a fare le torte? Quanti si sono messi a aiutare i genitori a casa, nei lavori domestici? Quanti ragazzi hanno imparato a aiutare i fratelli più piccoli? Quanti ragazzi stranieri hanno imparato le lingue madri e le lingue dei padri? Ecco, queste sono competenze di cui la scuola dovrà farsi carico perché non sono un'extra, sono le competenze che i nostri ragazzi si porteranno con loro. E allora smontiamola, questa aula, questo setting, a partire da settembre perché avremo bisogno del distanziamento, avremo bisogno di lavorare sull'aria aperta, nei cortili, negli atri delle scuole, nelle palestre, ma che la scelta di questi luoghi necessaria per le questioni che diceva il dottor Baia, per un distanziamento, per le prese d'aria, non sia quella la ragione per cui lo facciamo. Perché io mi rifiuto che dentro la nostra, la testa dei nostri ragazzi passi che il distanziamento sociale è la misura della scuola. no, è una forma temporanea di assetto che a loro deve dire qualcos'altro. Se si fa un esame, se si fa scuola in un prato, lo si fa perché la natura ha qualcosa da dire, perché la fotosintesi clorofiliana raccontata in mezzo a un bosco non è la stessa cosa che raccontata in un'aula. Se si porta una classe e si fa l'esame mentre si cammina, io l'ho fatto con i miei studenti, lo faccio con i più timidi, lo faccio con i balbuzienti, basta farli camminare e riescono a avere la lingua sciolta e allora smontiamolo questo setting ma le ragioni per cui lo faremo sono quelle che ci porteremo a casa nei prossimi anni e allora abbiamo un sacco di cose su cui lavorare, i tempi ed è quello che faremo in questi gruppi di lavoro che partiranno adesso ma sono gruppi di lavoro pragmatici ma che lavorano anche sul senso perché l'indicazione pragmatica senza il senso sarà l'impoverimento definitivo della nostra scuola è questo che vogliamo fare e allora torniamo a ragionare e su questo chiudo sulla pedagogia dei luoghi degli spazi e dei tempi perché di questo devono occuparsi gli insegnanti tutto il resto lasciamolo fare agli altri e allora tre punti c'è differenza nel proporre gli scaglionamenti di ingresso a scuola come ha fatto recentemente il sindacato sulla base di un quarto d'ora perché funzionale alla scuola o scaglionare gli orari perché sono rispettosa della psicologia e dei tempi e degli orari di vita dei ragazzi ottengo lo stesso scopo ma la ragione profonda è diversa si può fare spazio si può fare didattica all'aperto ok immaginando che sia strumentale alla salute ma lo si può fare per una ragione più profonda come lo faceva Tagore come lo faceva certa scuola innovativa in Inghilterra dove stare all'aria aperta è un più è un di più per l'educazione e poi su questo chiudo dovremo valorizzare le competenze dei ragazzi le competenze dei ragazzi io la cosa che ho capito l'ho capita stamattina a lezione quando con il mio collega abbiamo deciso che facevamo un passo indietro e la lezione la facevamo fare a loro beh di tutto questo semestre è stata la lezione più bella quella nella quale abbiamo insegnato apprendendo insieme a loro ecco questa modalità interattiva che ci ha sempre fatto paura perché è difficile scendere dalla cattedra è quello che ci restituirà alla nostra dignità di insegnanti il nostro futuro insieme grazie 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 Elena per il tuo entusiasmo soprattutto perché davvero riesci a trasmettere quello che è il cuore e il centro dell'educazione e quindi il protagonismo dei nostri destinatari grazie per tutti i suggerimenti che ci hai dato che continuerai a darci con il lancio del manifesto a partire dalla nostra immagine creata da voi proprio che dice il lavoro è rompere gli schemi ed entrare in una dimensione nuova che dia visione hai suggerito prima all'inizio come i nostri fondatori in fondo siano stati grandi profetti e visionari ce lo siamo detti più volte in questo periodo e accettiamo la sfida hai anticipato quella immagine è chiuso proprio rapidissimamente perché ci è cara da una parte ha stralci di giornale la cronaca e dall'altra ha la visione e questi ragazzi che si buttano dentro un mondo che ancora non c'è ma sono attratti da quelli non dalla cronaca tra la cronaca e la visione c'è il nostro lavoro grazie 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 perché sarai una nostra consulente preziosa e illuminante in tutto questo periodo che è stato e che verrà ancora hai aperto e fatto da battistrada d'apertura proprio a Don Sergio che ha il compito di concludere questi interventi e giustamente a te Don Sergio la domanda che a questo punto è un po' conclusiva e riassentiva anche dell'intervento che Elena ha appena fatto ci dici sicuramente in sintesi ma bene anche così nei dettagli come tu stai a fare che cosa ha il progetto educativo da dire oggi della scuola cattolica al mondo contemporaneo nella nuova sfida che ci si presenta ecco che tipo di narrazione intendiamo scrivere oggi in questa novità e in quale modo il nostro Dirci Cristiani interpella il nostro ruolo di educatori ed insegnanti grazie Don Sergio grazie a voi e grazie per la positività che sprigionano questi interventi e che la bellezza di lavorare insieme in queste settimane mi sta donando perché già quello che abbiamo visto questa sera in diretta essendo di fatto cattolici con delle caratteristiche delle competenze diverse dice molto di chi siamo e di che contributo possiamo dare al paese quindi c'è un primo tema di cui ho apprezzato in questo periodo la positività cioè la postura potremmo dire costruttiva non polemica noi siamo non possiamo nascondercelo in una situazione di grandi difficoltà anzitutto si è parlato di noi e ci siamo fatti sentire per la drammaticità della situazione in cui anche a livello economico le nostre scuole si interrogano sul futuro sappiamo di essere parte come scuole paritarie del sistema pubblico e abbiamo bisogno lo abbiamo fatto di fare presente che non viviamo d'aria e che in questo momento l'essere parte integrante del sistema pubblico domanda di uno Stato che si accorga di come contribuiamo a essere apripista lo siamo stati tante volte e desideriamo essere ancora di soluzioni nuove farlo non in un atteggiamento semplicemente rivendicativo ma come stiamo facendo questa sera farlo perché parte di un paese perché sentiamo di dovere in qualche modo grazie anche alla leggerezza rispetto alla grande burocrazia alla lentezza statale e alla passione all'idealità alla gratuità che le persone mettono al di là del loro contratto di lavoro in una scuola in cui credono che le famiglie mettono in una scuola che scelgono e tutto questo patrimonio ci dà penso la la forza la carica di sentire che siamo pieni di problemi che abbiamo domande molto grandi sul futuro che abbiamo un lavoro da fare oggettivo per chiedere allo Stato di investire su ciò che lo fa risparmiare e su ciò che gli può dare di intravedere delle soluzioni che poi possano in qualche modo fare lievitare crescere maturare tutto l'insieme della scuola pubblica fare questo positivamente vuol dire chiedersi davvero non in generale ma in questo momento che cosa dice un progetto educativo quindi mi piacerebbe tenendo conto che abbiamo a che fare con un arcipelago diversissimo di realtà grandi e piccolissime stiamo parlando e incontrandoci tra persone che vanno dall'estremo sud all'estremo nord del paese e quindi avvertire tutta questa differenza come un'opportunità di intervenire in modo molto concreto a cambiare segno della percezione che gli italiani hanno rispetto al valore della scuola e a cambiare segno del modo nel modo in cui si fa scuola questo credo che sia la cosa più cattolica del mondo cioè fedele alla nostra storia e alla nostra tradizione vorrei sottolineare in particolare due aspetti che mi sembra possano riguardare in realtà il lavoro con ogni fascia d'età in questo momento e in questa fase credo che anzitutto noi per la storia che abbiamo e per la caratterizzazione che le nostre scuole hanno da sempre abbiamo una particolare capacità che ci viene quasi naturale di fare comunità cioè di accorderci che dietro ogni bambino c'è una rete di relazioni c'è una famiglia ce ne siamo presi cura in tanti modi ci abbiamo creduto ci abbiamo investito ne abbiamo parlato ecco in questo momento a renderci conto che in fatica per ragioni di carattere economico ma non solo perché stare in casa per tanto tempo tutti insieme ha messo alla prova immagino moltissimo gli assetti gli equilibri familiari non mi voglio dilungare troppo ma la questione è come stanno le famiglie nelle quali intravediamo i nostri bambini i nostri ragazzi attraverso uno schermo beh prenderci cura di questa socialità sapendo che anche uscendo di casa non so se è capitato anche a voi in questo periodo noi avvertiamo il timore ad avvicinarci la paura a incontrarci cioè dobbiamo ce l'ha detto benissimo prima il dottor Vaia mantenere un distanziamento ma renderci conto che noi possiamo essere distanziati però insieme e quindi inventarci delle forme nuove per far sentire le persone supportate lo stiamo facendo credo in tanti modi anche in questo periodo penso a come oltre alla didattica a distanza si siano messe in campo iniziative per sostenere anche a livello pedagogico psicologico spirituale i nuclei familiari a come stiamo dando incontro molto spesso anche economicamente a persone che faticano a potersi permettere la retta a come adesso e in futuro stiamo cercando di tessere rapporti e mettere in circolo le risorse che le persone hanno un po' come nella moltiplicazione dei panni evangelica dove quello che è di uno si moltiplica solo se condiviso questo mi sembra un tema molto importante per contrapporre alla paura del contagio una propensione a un altro tipo di contagio che è quello della gratuità della positività del desiderio di essere insieme e di fare squadra di fare comunità tutto questo io credo che ci ricordi che veniamo da una storia il progetto educativo delle nostre scuole forse di più di quello statale che forse per natura sua forse per il ritmo a cui la scuola statale normalmente procede ha la capacità e ha nelle figure dei fondatori nella storia da cui veniamo la possibilità di radicarci in una tradizione in una storia comune che è estremamente importante come del resto fa la lezione che è normalmente l'immergersi in quello che non è ancora conosciuto perché ci precede perché è da scoprire è da aprire è da affrontare come cosa nuova da questa esperienza da questa storia credo che possiamo trarre un senso dell'abitare la complessità dell'attraversare le difficoltà che è molto prezioso per fare realmente educazione per fare formazione noi abbiamo la responsabilità credo forti della storia da cui veniamo di ricordare che siamo nati in contesti difficilissimi che i nostri fondatori e le generazioni precedenti hanno già attraversato dei momenti di particolare complessità e che studiando noi normalmente abbiamo a che fare con cose complesse ci abituiamo a interpretare a risolvere problemi a trovare soluzioni a condividere strategie la scuola serve a questo a educare e a aprire lo sguardo e a dare strumenti per stare dentro situazioni come questa e noi credo che possiamo farlo mettendo in gioco dalla nostra storia dalla nostra identità un elemento che è ancora più radicale ancora più profondo perché ha a che fare con il senso della vita questo periodo ci ha esposto drammaticamente alla morte alla malattia all'incertezza e se siamo seri se siamo onesti abbiamo da accompagnare tutto un travaglio che noi per primi stiamo vivendo e che abbiamo le risorse spirituali per condividere perché non rimanga sepolto dentro ciascuno di noi si sono viste immagini abbiamo avuto una percezione del pericolo abbiamo vissuto lutti abbiamo sentito parlare di morti come di numeri credo che tutto questo nella vita di questa generazione dei nostri bambini dei nostri ragazzi ma anche dei loro genitori abbia una dimensione verticale domandi senso domandi di essere ritualizzato domandi di essere collegato all'anno liturgico a quello che le opere d'arte raccontano a tutti i drammi che la letteratura racconta al senso di fare scienza di studiare di fare ricerca portare il senso della vita la sua ricerca dentro l'esperienza della scuola e l'accompagnamento che facciamo le persone se non lo facciamo noi chi lo farà tutto questo io credo che ci addia anche gli strumenti per dire e per credere che anche in un momento di estrema difficoltà economica noi possiamo offrire alle famiglie delle buone ragioni delle ottime ragioni per fare un investimento cioè per scegliere le nostre scuole come investimento da fare sui propri figli spendere per la scuola in cui proprio figlio va oggi e sempre di più domani diventerà una grande sfida quindi è vero noi abbiamo in qualche modo con lo Stato da interagire su quel tema della parità che ci accompagna da tempo ma abbiamo soprattutto da chiederci se vale l'investimento venire da noi cioè se le persone che portano i loro figli da noi che ci scelgono stanno realmente scegliendo qualcosa che altrove non si trova e credo che in questo senso di comunità in questa abitudine a trovare nella storia e nella complessità delle materie da apprendere delle sfide da affrontare le chiavi per abitare con agio con serenità e il presente e trovare spiritualità in tutto questo un rapporto nuovo con Dio con se stessi con gli altri sia quello che un progetto cattolico oggi ha veramente la forza l'energia di mettere in campo a servizio di tutto un paese grazie grazie Don Sergio per aver messo a fuoco i diversi punti di quello che è il progetto educativo ma grazie soprattutto per aver sottolineato la sinergia dal nord a sud trovarci insieme tra un'unica identità e per dire appunto al mondo di oggi ci siamo siamo vivi vogliamo esserci vogliamo fare scuola grazie dei vostri preziosissimi contributi grazie ancora e diamo la parola a Virginia alla nostra chiedere affinché lei concluda dandola rivederci per i nostri prossimi appuntamenti a te la parola Virginia e grazie ancora grazie grazie a tutti grazie a Sor Paola Murru per il coordinamento dell'avvio di questa meravigliosa campagna vogliamo fare scuola volevo condividere brevemente con voi mentre eravamo in conferenza stampa sono stata raggiunta da un giornalista che voleva costringermi nel senso buono a dirmi allora chiuderanno le scuole paritarie allora chiuderanno e devo dirvi che mi sono lasciata prendere un po' da impeto no dico non vogliamo chiudere non possiamo chiudere i nostri ragazzi stanno aspettando di tornare a scuola e dobbiamo a loro riaprire le nostre scuole mi collego direttamente a quello che Don Sergio ha sottolineato con molta chiarezza noi vogliamo fare scuola basta con questo discorso di disfattismo io in questo momento sicuramente chiederò anche chiederemo anche a nome di questa campagna che parte alla ministra di ascoltarci di ascoltarci perché noi vogliamo continuare e i nostri bambini i nostri bambini i nostri genitori i nostri docenti le nostre famiglie sono cittadini italiani e vanno rispettati vanno rispettati e basta con queste discriminazioni la legge della parità compie quest'anno 20 anni pertanto è il momento di dire basta con questo disfattismo chiudiamo 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 non vogliamo chiudere oggi è proprio questo che vogliamo dire con questa campagna che si avvia vogliamo fare scuola tante le realtà che hanno aderito all'avvio di questa campagna adesso sarete raggiunti da indicazioni per come dimostrare interesse daremo una settimana di tempo e entro questa settimana vi invitiamo a dimostrare interesse poi ci chiameremo per nome ci guarderemo in pace e insieme cominceremo dei confronti dei webinar tematici che accompagneranno questo processo di ridisegnare la nostra scuola in una realtà nuova ecco chi aderirà sarà parte integrante del progetto abbiamo detto che vuole essere un progetto al plurale dove ognuno in questa cornice potrà mettere la sua faccia i suoi luoghi i suoi territori i suoi contesti lo vogliamo perché già queste più di duemila soggetti soggetti che rappresentano poi tante altre realtà dietro hanno aderito a questa campagna adesso speriamo che diventa anche interessi ad essere con noi in questo cammino perché lo dobbiamo alle nuove generazioni le cose che abbiamo ascoltato stasera ci hanno toccato le corde del cuore pertanto basta con questa politica disfattista noi non vogliamo chiudere vogliamo andare avanti e insieme con voi vogliamo farcela abbiamo attivato un indirizzo email che è vogliamo fare scuola chiocciola fidae.it ma sarete raggiunti con tante informazioni anche attraverso delle email dove voi potete dire sono interessato voglio entrare cominciamo a parlarne insieme è una campagna aperta tutti ognuno metterà quello che può risorse di persone di competenze e già ne abbiamo messo avete visto quante competenze sono al nostro tavolo e quante altre ne abbiamo abbiamo anche avviato la pratica abbiamo chiesto all'Uni l'ente di normazione nazionale di camminare un cammino per riconoscerla come prassi di riferimento la domanda vi lo comunico con grande gioia è stata accolta pertanto questo cammino che stiamo facendo diventerà anche prassi riconosciuta ci sono i massimi esperti al tavolo ma non vogliamo essere da soli per quel motivo che ho detto prima insieme possiamo fare di più questa emergenza ci ha fatto capire che non è più il tempo di dire io dobbiamo dire noi e noi sono i genitori i docenti gli amici le associazioni le fondazioni quanti vorranno unirsi perché al centro c'è il bene più prezioso che abbiamo il futuro dei nostri ragazzi per questo io vi dico speriamo di rivederci presto presto per fare un cammino insieme dove al centro ci sono i nostri ragazzi grazie a tutti e buona serata ancora grazie grazie a tutti grazie a tutti